Mi chiamo Vincenzo D'Aleo, ho 17 anni e frequento l'Istituto Giuseppe Gangare, Ciro Marina. Beh, questo che vi presento è un breve spettacolo equestre, un addestramento fatto in libertà, in cui si ha a che fare con un amico, un amico che comunica in silenzio e che aveva ugualmente capito. Ed è proprio così, perché il linguaggio dei cavalli è un linguaggio silenzioso, ma fatto di tante emozioni. Il cavallo è un amico che non ti giudica, ma ti accetta così come sei, un amico che accetta di diventare cuore, mente e corpo del compagno che gli sta accanto. Stare a contatto con questi splendidi esemplari ogni giorno si imparano tante cose, a partire dal valore dell'amicizia a finire al rispetto tra i tuoi corpi. Il binomio che si instaura tra cavallo e cavaliere è un rapporto spirituale in sintonia con le proprie emozioni, di propri sentimenti. Il legame con il cavallo non è un legame più fantasia, è un legame palpabile, fatto di attenzione e rispetto che permette a entrambi, uomo e cavallo, di lavorare insieme in sicurezza e fiducia. E come disse il grande Peter Brown, cavalcare trasforma vorrei in posso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.